Cesarino? Cesarino? Ah, Monsignor, non basta! No, non so, Monsignore, son serafino. Ah, eh, ma allora è il mio figlio di famiglia! Non ti vado a mangiare? E non sapevo che i garzionati ci avevano pure il menù a casa. Vabbè, questa è la visione un po' speciale, no? E me ne so ancora. E poi mi ti prepara per il prancio serafino tuo. Ah, serafino tuo, ma chi te conosce? Ma chi te l'ha dato? Siamo in Firenze. Dai, e ci chiamiamo il zio serafino. No, io ti voglio chiamare proprio. Ma non c'è più sicuro, non c'è più sicuro, non c'è più sicuro. Ma c'è ragazzo, no? Eh, c'ho fame sì, è tanto giorni che mi fate manià. Ti piace il pollo? E poi non mi fa schifo. Ma no. Ma il tacchino? Ma il tacchino se dai malato. Che c'è ragazzo? Ma che ci penso? Lo sai che mi piacerebbe a me? Eh, sì. Un bel abatto, arrosto con le bacche. Ma perché non c'è ragazzata? Perché c'è ragazzata? No. Parla aerea. Un abatto con le bacche. Un 받erness con le bacche. Un saluto con le bacche. Grazie.